Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Io sono TNBT e come sempre parliamo di One Piece. Oggi ci concentriamo sul capitolo 1081, che non è ancora uscito, ma appunto arriverà tra qualche giorno, al massimo credo intorno a giovedì sera, magari venerdì, dopo la settimana di pausa. E non sono ancora usciti i spoiler ufficiali, non sono ancora uscite le prime immagini, però ci sono già delle forme, diciamo, di spoiler che circolano nel web, così definiti int, dagli spoiler man, che più di uno in queste ore hanno rilasciato dei piccoli indizi, non sono ancora, diciamo, spoiler completi, ma dei piccoli indizi su una cosa, e cioè il fatto che questo 1081, per certi versi, se gli spoiler man non stanno facendo, ovviamente, un pesce d'aprile in ritardo, sarà un capitolo ancora più emozionante e ancora più importante, se così possiamo dire, rispetto anche al 1080. Quindi l'ingresso in scena di Garp, che comunque ha fatto la sua porca figura nel capitolo 1080, verrà eclissato da qualcos'altro, quindi ci sarà qualcosa che va anche al di là delle nostre aspettative in questo 1081. Ora proviamo a fare due ipotesi, in questo video, ovviamente, come al solito, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti del video, se qualcuno di voi ha letto queste piccole prime anticipazioni, in ogni caso, commentate qui sotto. Detto ciò, secondo me, il fulcro del capitolo 1081 sarà qualcosa che riguarda, comunque, l'isola di Acinosu, o comunque qualcosa che va al di là di Aged. Questo perché ho avuto l'impressione, dal momento in cui Oda ci ha mostrato le didascalie, appunto, con, diciamo, il famoso incidente, no? Quello che verrà ricordato come il famoso incidente di Aged, ho avuto la sensazione che potremmo forse non vedere direttamente quell'incidente, proprio perché Oda ce ne ha iniziato a parlare in questo modo qui. Poi, ovviamente, è solo una ipotesi, potrei sbagliarmi, però, secondo me, adesso l'attenzione per qualche capitolo verrà, diciamo così, attirata fuori da Aged. Abbiamo avuto Shanks con la vicenda di Kid, quindi il suo attacco, eccetera, quindi Kid già eliminato dalla corsa allo One Piece. Abbiamo visto Garp arrivare ad Acinosu per liberare Kobi, Kobi che tra l'altro in qualche modo si è già parzialmente liberato e potrebbe essere il nuovo liberatore, no? Visto anche dal punto di vista, diciamo così, della marina, del governo mondiale, ma non solo, perché tutti i pirati, ad esempio Gekko Moria, o comunque le persone che sono state in questo periodo, diciamo, sconfitte, magari imprigionate da Tic, potrebbero vedere Kobi a loro volta come un liberatore. Quindi una figura, quella di Kobi, che può prendere, secondo me, un consenso, un consenso, appunto, un carisma che abbraccia non soltanto i marine, ma che va oltre. Un pochino come succede anche per Rufy, che ha degli estimatori, diciamo, non solo tra i pirati, ma anche, magari, all'interno della marina o di altre forze, diciamo così, anche Kobi potrebbe avere un carisma del genere. Ovviamente lui ancora è un pochino indietro rispetto a Rufy, però, forse, dopo, appunto, l'episodio di Rockyport, anche quello che succederà ad Hachinosu, contribuirà ad accrescerne la fama. Quindi, cosa vedremo in questo 1081? Beh, io credo che l'attenzione dell'autore potrebbe concentrarsi ancora su quello che sta avvenendo sull'isola di Barba Nera, quindi la battaglia, magari, tra Garp e i capitani della ciurma di Tic, potrebbe andare avanti, magari vedremo Kobi fare qualcosa, magari vedremo Aokiji, vedremo Aokiji e l'incontro, il rincontro tra Aokiji e Garp, che potrebbe, diciamo così, sfociare in qualcosa, diciamo, di inaspettato, magari Aokiji che decide di buttare giù la maschera, di unirsi, allearsi a Garp, o magari Aokiji che tradisce definitivamente Garp, e magari potremmo vedere anche un combattimento tra l'allievo e il maestro, quindi Aokiji contro Garp, sarebbe un qualcosa, sinceramente, che io non mi aspetto, però potrebbe Oda giocarsi anche una carta di questo genere. In ogni caso, credo che là il focus rimarrà lì, o al massimo, diciamo, si allargherà a Barba Nera. Noi sappiamo che Barba Nera in questo momento sta combattendo con l'O, potrebbe aver finito di combattere, io credo che al 100% Trafalgar Lowe sia stato sconfitto, esattamente come è successo a Eustace Kidd, magari in misura minore, magari non annientato completamente con la sua ciurma, eccetera, anche perché abbiamo visto che Barba Nera spesso non annienta i suoi avversari, ma come è avvenuto appunto per Gheko Moria, decide magari di imprigionarli, volendoli un po' piegare al suo volere, un po' come aveva cercato di fare anche Kaido a Wano, e quindi potremo magari vedere Barba Nera, vedere come è finito, se è effettivamente finito lo scontro tra Barba Nera e Trafalgar Lowe, e magari qualche rivelazione che possa attaccarsi a questi elementi. Mi stupirei se Oda tornasse a Heged in questo momento, mi stupirei altrettanto se dovesse magari mostrarci qualcos'altro, quindi cambiare ancora il focus del capitolo, magari, non so, con la situazione di Marie Joie e con la faccenda di Orso Bartolomeu, che sembra stia andando, diciamo, al patibolo, no? Insomma, Oda può veramente giocarsela in mille modi, e sono molto curioso di vedere che tipo di capitolo uscirà fuori. Dalle informazioni, dai leaker, sembra che sia comunque qualcosa di grosso, qualcosa di potente, e che sicuramente non lascerà delusi noi fan. Questa almeno è la mia, quello che ho letto, la mia ipotesi. Insomma, fatemi sapere un pochettino la vostra, qui sotto nei commenti. Come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un pollice in su, ed attivare la campanella per rimanere aggiornati. Per il resto, i link trovate tutto in descrizione. Ci vediamo appena escono gli spoiler confermati al 100% per la prima analisi, diciamo così, dello script. E nulla, un saluto a tutti da TNBT, e buon inizio di settimana. Ciao!